Assessore, io l'ho lasciata sottosegretario e la ritrovo Assessore alla Regione Umbria, la salute. Quali saranno le linee di azione dell'Assessore in Umbria? Le linee di azioni dell'Assessore in Umbria saranno quelle dedicate al miglioramento della Sanità Umbria che è già una buona sanità, sta rifacendo il vestito perché si parla di piano sanitario, la conseguenza è la revisione di quella che è la pianificazione che deve essere dedicata e aderente a quelle che sono necessità del territorio, quindi ci aspetta un grande lavoro che dovrà essere fatto in equip con la Giunta, con il Consiglio in maniera tale da andare a soddisfare e centrare quelle che sono le necessità di un territorio che ha già avuto ma può avere molto di più se viene rinnovata quella che è la programmazione. Rapidamente, la Giunta Umbra come sai era caduta per uno scandalo sulla sanità, su quel punto di vista cosa pensate di fare per evitare che possa risuccedere di nuovo? Non c'è niente da inventare, ci sono già tutte quante quelle che sono le pratiche che sono state messe in campo da ANAC piuttosto che da Agenas, quindi la trasparenza sarà una dei cavalli di battaglia di questa Giunta e dell'amministrazione Umbra. Grazie. Grazie.